Vorrei chiamare sul palco per i saluti istituzionali alcuni rappresentanti del Comune, della Provincia, dell'Associazione Partigiani d'Italia. Intanto se si potesse avvicinare l'assessore Enzo Lavolta che è venuto qui. Grazie mille. Grazie a tutti i colori quali stanno impreziosendo questa giornata. Ringrazio naturalmente il Comitato della Resistenza della Costituzione della Regione Piemonte. Porto a tutti voi i saluti della città di Torino. Saluto affettuosamente la senatrice Fedeli con la quale da oggi abbiamo un debito in più rispetto a quanto accaduto. Io credo che prima di leggervi il saluto del sindaco Fassino, che si scusa e è impegnato in un'altra celebrazione sempre legata alla resistenza, do il benvenuto a tutti i nostri ospiti nella città che è medaglia d'oro al valore militare. Medaglia d'oro conferita alla città di Torino nel 1959, negli anni in cui a Porta Nuova cominciavano ad arrivare con sempre più frequenza, alle nove e mezza del mattino scendevano da un treno che poi è diventato anche famoso per la storia del nostro paese, alle nove e mezza del mattino scendevano migliaia di migranti, migliaia di meridionali, e il cui valore, il cui contributo allo sviluppo economico del nostro territorio ormai è più che noto. Fin da rendere tra l'altro successivamente la città di Torino una delle città più meridionali d'Italia, la terza come numero di popolazione dopo Napoli, Palermo, ebbene se il contributo, dicevo, allo sviluppo economico del nostro territorio ci è sempre più chiaro e lo testimoniano le tantissime iniziative, le tantissime celebrazioni che ricordano la storia recente del nostro territorio, e forse ci è meno chiaro e a una generazione come la mia, ad esempio, lo è assolutamente in modo quasi celato, quale fosse il contributo precedentemente dei meridionali a un momento significativo della storia del nostro territorio e più in generale del nostro paese, qual è stata la resistenza. Allora nella città in cui si è celebrata l'anniversario dell'Unità d'Italia, noi abbiamo dedicato nelle officine grandi riparazioni, quindi un altro luogo caratterizzante, lo sviluppo del nostro territorio, l'economia del nostro territorio, una mostra che aveva il nome Fare gli italiani. Bene, nella città di Torino, dove in occasione di quella ricorrenza abbiamo anche, grazie alla partecipazione del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, abbiamo rivendicato con orgoglio come l'unità nazionale fosse il presupposto di una riconciliazione nazionale e come fosse necessario che quel titolo della mostra rappresentasse un auspicio per il futuro del nostro paese, dei nostri territori. Io credo che valga la pena che questo tipo di manifestazioni, giornate come oggi, possano essere di contributo, anche culturale, a una riflessione assolutamente attuale e quotidiana. Da giovane lo dico, io sono nato a Ustuni, sono orgoglioso di essere pugliese, sono contento di ciò che sto facendo, sono onorato di essere amministratore di questa città. Naturalmente la mia è una storia diversa da quella che ha caratterizzato sia resistenti, sia la migrazione negli anni Sessanta. Ero piccolissimo in un fagotto quando due ragazzi decidevano di cercare miglior sorte in un'altra terra. Allora quel treno che rappresentava le speranze per molti italiani, oggi, guardandomi intorno, guardando i miei coetanei, i giovani del nostro paese, quel treno non c'è più, nel frattempo è stato soppresso, ma ci fosse, la domanda è in quali stazioni si fermerebbe? Quale sarebbe il capolinea di quel treno per i tanti giovani che ancora oggi, e forse oggi più che ieri, cercano lavoro e occupazione? Allora scusatemi se esco dai binari, diciamo, di una discussione celebrativa che giustamente ricorda e riapre le pagine di una storia, di un libro, tra l'altro, in cui alcune delle pagine sembrano appiccicate, forse è il caso di riaprirle, e rivendicare con orgoglio qual è stato il contributo dei meridionali alla resistenza anche nel nostro territorio. Però l'auspicio più grosso che io voglio condividere con voi è che questo tipo di discussioni, questo tipo di approfondimenti, questi momenti di orgoglio ci aiutino a interpretare al meglio quali sono le esigenze del nostro presente e ci aiutino anche a condizionare positivamente il prossimo futuro. Vi leggo il saluto del Sindaco Fassino che è impegnato, dicevo, in un'altra iniziativa sempre legata alla resistenza, il illustrissimo Roberto Placido, Presidente del Comitato per l'Affermazione dei Valori della Resistenza, cari Presidenti, cari amici, un impegno istituzionale anch'esso legato ai temi della resistenza non mi consente di essere presente al vostro incontro. Desidero tuttavia manifestare la mia piena adesione a questa iniziativa che sottolinea il contributo rilevante dato da tanti giovani del Mezzogiorno alla lotta di liberazione in Piemonte. Si trattava in gran parte di ufficiali e soldati che, nello sbandamento dell'8 settembre, scelsero di unirsi alle formazioni partigiane in via di costituzione e spesso ne costituirono parte determinante. Uomini come Pompeo Colaianni, detto Barbato, i fratelli Moncada, sono divenuti simbolo dell'impegno di tanti figli del Sud alla lotta partigiana nel nord Italia. Molti furono i giovani meridionali che caddero in combattimento o nelle rappresaglie fasciste e naziste, offrendo un contributo di sangue particolarmente doloroso alla liberazione del Paese. A 70 anni da quella stagione è giusto ricordarlo perché il decorso del tempo non copra persone e eventi con l'oblio e si trasmetta alle generazioni che si succedono memoria di quanto doloroso e aspro sia stato il cammino dell'Italia nella riconquista della libertà. Per queste ragioni la città di Torino ha già avviato un intenso programma di iniziative che da oggi al 2015 ricordino i principali passaggi della stagione 43-45 dando così massimo rilievo al settantesimo anniversario della liberazione. Con questi sentimenti vi porgo i più affettuosi saluti con amicizia Piero Fassino. Grazie.